ciao amici value investor come sapete da meno di un mese abbiamo aperto il gruppo discord del canale il circolo dei value investor dove discutiamo indovinate un po esatto di value investing commentiamo notizie di aziende trimestrali delle aziende e soprattutto analizziamo aziende e tra le tante aziende di cui abbiamo discusso in queste due settimane ce n'è stata una in particolare che ci ha incuriosito molto perché sembra essere una potenziale multi beggar di quelle di cui tanto parla peter lynch nei suoi libri ma presenta anche dei rischi come tante aziende in fase growth quindi colgo l'occasione per ringraziare i membri del gruppo per la grande partecipazione che ci stanno mettendo in queste analisi e siccome ci sono giudizi contrastanti nel gruppo su questa azienda mi piacerebbe avere anche la vostra opinione nei commenti quindi non perdetevi questo video l'azienda di cui parliamo è una micro cap con una capitalizzazione al di sotto dei 500 milioni di dollari ma non hanno aperto la partita iva da poco l'azienda esiste dal 1995 ed è stata fondata dal suo attuale ceo quindi questo è positivo l'azienda si chiama love sack sì è vero il nome non è granché ma non fermiamoci alle apparenze questa azienda è specializzata nella produzione vendita negli stati uniti di divani ma non di divani qualsiasi ma divani componibili quindi possiamo crearci soluzioni su misura in base ai nostri gusti ed esigenze di vita e di spazio disponendo i vari componenti del divano come più ci piace e magari comprandone degli altri in un secondo momento per espanderlo quindi oltre a poter comporre l'area relax del nostro salone come più ci piace e magari anche cambiarla eventualmente se cambiano le nostre necessità possiamo anche cambiare facilmente le coperture dei divani sia per lavarli ma anche per cambiare ad esempio colore trama materiale eccetera e i rivestimenti li possiamo comprare direttamente dall'off sack che ha un ampio assortimento e questo rappresenta un'altra forma di guadagno per l'azienda post vendita perché il problema principale di questo settore è che una volta che ti ho venduto il divano ti rivedo probabilmente direttamente tra dieci anni se non vai dai concorrenti non solo posso cambiare le fodere ma anche comprare ulteriori pezzi per fare un upgrade del divano ad esempio come un nuovo posto a sedere un pezzo per fare il tavolino il poggiapiedi ma anche accessori come il portabicchieri il caricabatterie per smartphone wireless integrato nel bracciolo del divano oppure addirittura un impianto home theater integrato nel divano che è l'innovazione che più di tutte contraddistingue l'off sack ed è brevettata quindi senza il fastidio di fidi o altoparlanti sparsi nel salone come avrete capito non sono i classici divani ma sono divani innovativi infatti basta fare una veloce ricerca su google per capire che l'off sack ha tanti brevetti e pensate che il 41.6 per cento delle transazioni avviene da già clienti quindi se i clienti tornano tornano a comprare vuol dire che apprezzano i prodotti infatti la lifetime dei clienti di l'off sack è lunga l'off sack vende i suoi prodotti in vari canali di vendita nei suoi showroom principalmente che sono in grande espansione e anche il fatturato per punto vendita è in grande aumento e questo è molto importante poi vendono anche attraverso degli shopping shop tipo le aree che ha la apple nei media world con l'esperto l'apple genius e da poco sono entrati in centinaia di punti vendita best buy e costco dove hanno piazzato questi mini shop e infine il canale online che nell'ultimo trimestre ha fatto registrare un più 28 per cento di vendite quindi è un canale in grande crescita questi sono divani di fascia premium pensate che il prezzo medio della prima transazione di un nuovo cliente è di 5.000 dollari e molti ordini sono sopra i 10.000 15.000 o anche 20.000 dollari e pensate che solo fino a due anni fa l'ordine meglio del primo acquisto era di soli 3.500 dollari perché le persone comprano setup sempre più ampio ora con più componenti accessori e perché un anno fa non c'era still tech il sistema un theater integrato nel divano di cui parlavamo prima e che ovviamente ha fatto aumentare i prezzi e questo sistema potete averlo nei loro divani di punta i sanctionals lanciati nel 2017 e che hanno fatto esplodere le vendite dell'azienda e sono i divani più venduti negli stati uniti pensate un po quindi costano questi divani ma non sono un prodotto di nicchia mentre i sax che sono cuscini giganti a forma di fagiolo e che stanno avendo anche questi grande successo sono il secondo prodotto più venduto dell'azienda e anche questi hanno un costo di almeno 1.000 dollari entrambi i prodotti sono comunque in costante crescita come vendite ma guardiamo un po i numeri di bilancio questa è sicuramente un'azione che peter lynch definirebbe fast grower le vendite stanno crescendo molto velocemente da diversi anni e questo non è quello che stanno facendo i competitor invece se confronto love sack con la crescita dei competitor di pari dimensioni o anche con il mercato in generale love sack li sta massacrando e sta rubando tante quote di mercato è vero che negli ultimi trimestri le vendite sono rallentate molto ma ragazzi parliamo di prodotti discrezionali da 5.000 10.000 dollari in un periodo di alta inflazione e tassi di interesse alti ci sta che le vendite rallentino ma quello che sorprende è che nell'ultimo trimestre il mercato di riferimento ha fatto meno 20 per cento come vendite love sack è cresciuta sopra il 9 per cento questo vuol dire che love sack sta guadagnando molte quote di mercato e la cosa bella di questa azienda è che non solo cresce molto a livello di vendite molto di più del mercato ma margini di profitto lordi molto più elevati della concorrenza e soprattutto stabili negli anni questa è un'azienda che sembra avere quindi un pricing power e questo è importante per avere una crescita sostenibile nel lungo termine ovviamente ragazzi parliamo di un'azienda in fase di crescita e tutto quello che guadagnano quindi lo reinvestono per l'apertura di nuovi negozi lancio di nuovi prodotti pubblicità ricerche sviluppo miglioramento della logistica eccetera quindi i margini operativi sono bassi e positivi solo da poco ma comunque come potete vedere sono in crescita ma questa è un'azienda che può migliorare molto la sua marginalità con lo sviluppo delle economie di scala per quanto riguarda la situazione di bilancio questa è un'azienda con zero debito e questa è un'ottima cosa ma andiamo anche alle note negative è un'azienda growth come detto quindi non produce molto cash flow e per questo sta utilizzando il cash disponibile in bilancio per finanziarsi che come potete vedere è in calo di recente questa azienda sta investendo molto per la crescita e ultimamente anche per aumentare l'inventario per sostenere la crescita delle vendite ecco perché vedete il cash flow from operations a volte negativo perché questa è un'azienda che punta molto sul servizio al cliente e sulla rapidità delle spedizioni infatti il divano viene consegnato entro un paio di giorni dall'acquisto nessun competitor riesce a farlo e per fare questo però hanno bisogno di avere i magazzini pieni di divani comunque considerate che è un inventario evergreen non è tecnologia o merce deperibile quindi meno soggetto a svalutazioni un bel punto debole però che poi è comune a tante aziende di questo tipo sulle stock base compensation che sono alte secondo me se paragonate all'utile al cash flow operativo per un'azienda in questa fase di crescita secondo me ha poco senso guardare il ritorno sul capitale che comunque è in aumento è utile guardare invece la diluizione degli azionisti perché spesso queste aziende diluiscono molto gli azionisti per finanziarsi ma non è il caso di love sack che invece sta già iniziando a ridurre il numero di azioni o quantomeno è stazionario allora cosa dire invece del prezzo beh usare il discounted cash flow non è fattibile in questo caso ma sembrerebbe a buon prezzo perché se guardiamo le valutazioni a livello di multipli dei competitor diretti love a valutazioni simili ai competitor ad esempio come pie forward ma love è un'azienda che cresce molto di più dei concorrenti a prospettive di crescita migliori perché sta aprendo tanti punti vendita sta lanciando dei nuovi prodotti i competitor diretti invece no sono previsti con vendite stagnanti o in calo eppure hanno multipli simili quindi da questo punto di vista ci vedo del valore in love sack e visto che parliamo di un'azienda fast grower prendiamo un multiplo di valutazione molto usato da peter lynch per valutare questo tipo di aziende il pg ratio lynch ci dice che se questo valore è sotto l'uno l'azienda è probabilmente sottovalutata e come potete vedere considerando le stime di crescita degli utili analisti di yahoo finance è nettamente sotto lo 0 5 manco l'uno quindi vuol dire che c'è tanto margine di errore anche se gli analisti dovessero sbagliarsi con le loro stime c'è da chiedersi perché potrebbe essere sottovalutata però io penso principalmente per tre motivi uno è una micro cap quindi è poco sotto i riflettori del mercato due opera in un settore noiosissimo quello dei divani quindi viene snobbata tre perché il mercato è miope e vede solo a breve ora sta vedendo un rallentamento delle vendite importante ma non pensa che tutto il mercato stia crollando ed è un miracolo che il love cresca ancora a buon ritmo può essere una 10x forse sì e secondo me se guardo il gross margin sembra anche avere pricing power perché ha dei brevetti a tutela dei prodotti quindi sotto un certo punto di vista i suoi prodotti sono unici e questo fatto che i divani sono componibili si trasforma in un vantaggio competitivo di costo anche perché ce ne stanno di più nei magazzini e quindi c'è una maggiore ottimizzazione dei costi sono più facili da trasportare consegnare quindi costa di meno ci vogliono showroom più piccoli perché non hanno bisogno di 20 divani diversi ti bastano una decina di elementi di lobsack e mostrare al cliente come si possono comporre e quindi con negozi più piccoli e meno costosi sia anche più veloce nell'espansione e nella crescita però ci sono i rischi di un'azienda del genere azienda piccola con meno risorse finanziarie rispetto alle big del settore free cash flow scarso che potrebbe comportare dei problemi in futuro di finanziamento e costringere l'azienda a diluire gli azionisti le stock base compensation potranno mangiarsi guadagni ancora per qualche anno poi ci sono i rischi tipici di questo settore come l'inventario il prezzo delle materie prime dell'energia è un business capital intensive e poi dovete anche avere il fegato di resistere alla volatilità tipica di queste azioni a me ancora non ha fatto scattare la scintilla diciamo principalmente per questo modello di business che ha cioè mi sarebbe piaciuto avere qualcosa a più rotazione delle vendite a costo contenuto meno stagionale meno ciclico anche ad acquisto frequente meno capital intensive con questo modello invece ci vedo più rischio soprattutto per aziende di queste dimensioni ma ditemi la vostra nei commenti se ci entrereste o no e se volete entrare invece nel circolo dei value investor il nostro gruppo discord e analizzare con noi altre aziende vi basta supportare il canale attraverso patreon link in descrizione e con questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao da davide